Il cappello, signore? No, il cappello non lo tolgo mai. Fa tipo, non lo toglierai nemmeno di fronte a Chiang Kai-shek. Come vuole. Sigarette, signore? Contrabbando? Forse, signore. Come ti chiami, bambola? Cioccolatino. Ne vorrei un pezzetto. Desidera? Io non desidero. Dentro se balla. Io non ballo. Dentro se canta. Io non canto. Dentro se beve lo champagne. Sono stemio. E allora vuole dare un'occhiata? Sono abbastanza miope. Insomma, cosa è venuto a fare? Aspetto gli eventi. E quando arrivano? Lei conosce gli eventi? Io conosco 20, 21, 22, 23, 24. Lei è abbastanza spiritoso. Complimenti. Grazie. Ma manteniamo le distanze, eh? Quante volte ti devo dire che non deve dare confidenza a quelle più brutte di me. E neanche a quelle più belle. Grazie. Grazie.